Gloria a Dio, meraviglioso stare alla presenza del Signore. E noi siamo qui insieme perché Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per tutti noi. Mi sentite? Ok, basta che mi sentite. Ok, apriamo le scritture in Matteo, capitolo 10, leggeremo dal versetto 32, Gloria a Dio. Quanti noi desideriamo essere toccati dalla mano di Dio? Tutti vogliamo essere toccati? Molti desiderano essere toccati, ma una volta toccati, se non si capisce esattamente ciò che Dio fa nella nostra vita, ci lascerà con la perplessità di ciò che veramente Lui ha fatto. Io voglio trattare qualcosa della scrittura perché riguarda proprio questo. Lunedì mattina, alzandomi presto, avevo preso la Bibbia per meditare, leggere la parola di Dio. Ero lì seduto sul divano e chiedevo al Signore perché ogni mattina quando leggo la scrittura dico inizio sempre con Signore che cosa posso insegnare al tuo popolo, che cosa posso insegnare ai tuoi figli, cosa mi dai per la Chiesa e così via. Ma quella mattina in particolare mi senti di dire al Signore, Signore io ho bisogno che tu mi di un versetto da leggere per me stesso, hai mai chiesto qualcosa da leggere per te stesso? Ho aspettato lì una decina di minuti e non ho sentito niente. Andai oltre e cominciai a leggere qualcosa che è per voi. Tutto ad un tratto si accende la luce del cellulare e lo guardo ed era mio nipote. Mio nipote che non si fa sentire mai, forse parliamo soltanto quando ci vediamo negli Stati Uniti, semmai buon compleanno e così via. Ma erano passati 10-15 minuti e si accende il cellulare ed era lui. Ho detto che c'è qualcosa che non va e comincia a leggere quello che mi scrive, mi racconta, dice il Signore mi ha svegliato questa mattina, erano le 4.20, suo orario, e mi dice, mi ha svegliato alle 4.20 e mi ha detto, Isaia 43, versetto 1, da 1 a 5. E io l'ho letto, ho chiesto al Signore, Signore che cosa mi stai dicendo? E quindi ha pregato e poi stava per riaddormentarsi, mentre si addormentava gli disse, dai questo passo di scrittura a tuo zio Phil. E quindi mi ha scritto per darmi questo passo di scrittura. Io l'ho letto, ma ringrazio il Signore che anche se a volte noi non riusciamo a risolvere le incognite, le domande, le perplessità, le cose che forse desideriamo che Dio faccia per noi, Dio ascolta le cose più piccole, sembrerebbero le cose più banali, ma Dio ascolta e non solo che ascolta, ma si prende cura di quella... Era una cosa forse semplice e forse nemmeno importante, sarebbe poco importante per voi, ma per me è stato molto importante che Dio proprio in quel momento, entro dieci minuti, mi desse una parola da parte Sua. Ed era esatta risposta a quello che io stavo comunicando con il Signore. però io stesso per la mia vita devo capire il motivo per cui il Signore ha risolto questa mia richiesta o ha risposto alla mia preghiera o ho richiesto in quel modo. Andiamo a leggere. Marco, capitolo 10. Leggeremo dal versetto... Matteo? Scusate, Marco. Matteo, che ci occupa, Matteo? Marco, scusate. Marco. Capitolo 10, versetto 32. Dice così, Oressi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme e Gesù li precedeva ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore. Erano sgomenti e lo seguivano con timore perché Gesù per strada, andando verso Gerusalemme, aveva appena parlato con il giovane ricco dove fu detto che doveva lasciare ogni cosa per seguire Cristo e poi non l'ha fatto, ovviamente, la storia la sappiamo, però egli disse, dice, noi abbiamo lasciato, Pietro disse, noi abbiamo lasciato ogni cosa, dice, allora dice, abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti, dice, cosa ci sarà per noi in questa vita? Ok? E poi Gesù risponde e dice, sì, l'uomo tutto è impossibile, ma per Dio tutto è possibile e quindi se voi credete in Lui e continuate a camminare con Lui, Egli si prenderà cura di voi e così via. Però Gesù ha detto qualcosa, il versetto 31, dice, ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. E notate che la prima volta che lo vedo, dice molti primi, non dice tutti i primi, notate, dice molti primi saranno ultimi, spesso e volte diciamo, gli ultimi saranno i primi, i primi saranno, come se tutti i primi saranno gli ultimi, non è così. Dici, molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. E Gesù continua adesso, quindi questi seguivano Gesù e erano, lo scommettino, un po' tribolati nel loro spirito ed erano, aspetta, ma dove stiamo andando? Dove ci sta portando il Maestro? E continuano a camminare con Gesù e lo seguivano con timore, dice il versetto 32, e dice, ed egli presi nuovamente i dodici in disparte, presi a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei cavi dei sacerdoti e degli iscrivi ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherniranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà. Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo, maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che ti chiediamo. Ed egli disse loro, e questo è il versetto, che volete che io vi faccia? Ripeto, Gesù disse loro, che volete che io vi faccia? Ti ha mai chiesto Gesù, ma che vuoi che io ti faccia? Non ti è chiesto mai. Ma immagina se Gesù fosse qui davanti a te e ti dice, che vuoi che io ti faccia? Cioè se tu vai in preghiera, vai dal Signore e presenti una tua richiesta, il Signore si ferma per ascoltarti e ti chiede, cosa hai detto? Che cosa vuoi che io ti faccia? Quante volte nella vita desideriamo che Dio intervenga nella nostra vita? Nessuno. Noi vogliamo che Dio intervenga nella nostra vita, però vogliamo che il suo intervento sia in modo molto specifico, chiaro e io vi dico invece, fratelli, che il Signore parla a noi in parabole per un motivo. Qualche domenica fa, se non sbaglio, abbiamo parlato di come, dice il Signore, dice io parlo a voi in parabole e sta a voi. E il Signore dice io parlo a voi in parabole perché so che voi mi chiederete qual è il significato, cosa significa? E infatti noi vediamo che i discepoli spesso chiedevano a Gesù ma che cosa vuol dire questa tua parabola? Il Signore aveva detto non è per quelli, per gli altri di capire ma è per voi di capire, di sapere la verità, quindi per questo io parlo in parabole. il problema è che quando non chiediamo al Signore le sue motivazioni per fare qualcosa dentro di noi a volte Lui compie un'opera, fa un'opera, ci tocca ma non capiamo. Non comprendiamo il motivo per cui Lui sta facendo qualcosa. Hai mai percepito qualche volta che il Signore è venuto nella tua casa o nella tua vita nella tua vita personale e ti spasciavi i capiti, ti ha fatto qualcosa, ha messo qualcosa sotto sopra in casa tua e tu non hai capito niente e gli stai a dire ma Signore ma che stai facendo? A te è successo mai? Però se chiediamo al Signore di farci qualcosa e poi Lui lo fa non gli dire perché lo stai facendo andiamo a leggere un altro passo di scrittura ritorneremo a questo passo andiamo a leggere Giovanni vi assicuro che è Giovanni Giovanni capitolo 13 Alleluia giriamo al versetto 1 dicevo prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine e finita la cena avendo già il diavolo messo in cuore a Giudis Cariota figlio di Simone di tradirlo Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava si alzò dalla cena e depose le sue vesti poi prese un asciugatoio se lo scinse dopo aver messo dell'acqua in una bacinella cominciò a lavare i piedi dei discepoli ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era scinto venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse Signore tu lavi i piedi a me ecco Gesù era pronto a fare qualcosa a lui e lui gli fa aspetta ma che stai facendo e Gesù Signore tu lavi i piedi a me Gesù rispose e gli disse quello che io faccio ora diciamolo insieme ora non lo comprendi ma ma lo comprenderai dopo lo comprenderai Pietro gli disse tu non mi laverai mai i piedi ecco io ti voglio bloccare adesso perché quello che tu stai facendo non è giusto ma il Signore dice me lo devi fare fare quanti di noi vogliamo aprirci al Signore completamente sinceramente onestamente e dirgli Signore eccomi fai quello che devi fare e ti assicuro che il Signore ti dirà per prima io sto per fare qualcosa in te che anche se te lo dicessero non ci crederesti numero uno e la seconda cosa tu continueresti a chiedermi il motivo per cui ti sto facendo questo che ti faccio ma non lo capirai nemmeno se te lo dico quanti dei discepoli avevano capito che era necessario che Gesù andasse alla croce nessuno l'ha capito infatti lo seguivano dopo che Gesù gli aveva detto esattamente quello che gli sarebbe successo e loro non capivano quello che lui stava dicendo loro ma lo hanno seguito e per questo si sono lasciati prendere dallo sgomento presi dalla paura dal timore ma che ne sai che cosa sta succedendo e forse noi ci chiederemo chiederemo scusate ma perché le cose stanno andando in questo modo tu forse non lo capisci al momento ma lo capirai dopo quanti di voi dopo il fatto avete capito il motivo non si capiva il motivo mentre o durante ma si è capito il motivo dopo e il Signore dice se io ti dovessi spiegare tu non mi crederesti oppure mi diresti signore basta ora non lo fare non continuare mi costerà troppo sarebbe forse il mio croggiuolo si dice e dovrei io passare per questo croggiuolo non sono predisposto non sono disposto a farlo non ci voglio passare non voglio nemmeno entrare per questa strettoia e per questo il Signore spesso non ci dice esattamente cosa farà con la nostra vita ma ti assicuro che l'esito di questo processo il risultato quello che ne uscirà da questa situazione sarà solo e dico solo diciamo insieme solo solo per la sua gloria e mai per la nostra e il Signore dice versetto 8 dice Pietro gli disse tu non mi laverai mai i piedi Gesù gli risposa se non ti lavo non avrai nessuna parte con me cioè se tu non mi permetti di fare quello che devo fare in te con te tu non avrai nessuna parte di me Simon Pietro gli rispose signora a questo punto la saggezza di Pietro signora a questo punto signore e non solo i piedi ma anche le mani e il capo interessante quello che faccio e quello che penso e come cammino lavami tutto Gesù gli disse chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo anche voi siete mondi ma non tutti ovviamente faceva riferimento egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito perciò disse non tutti siete mondi versetto 12 così dopo aver lavato i piedi riprese le sue vesti si mise di nuovo a tavola e disse loro cosa dice comprendete quello che vi ho fatto comprendete quello che vi ho fatto ricordatevi che prima abbiamo letto in Marco e gli disse che cosa vuoi che io vi faccio ora ha fatto qualcosa per i suoi discepoli e a questo punto dice comprendete ora quello che vi ho fatto Signore Alleluia quanti noi abbiamo bisogno vogliamo la misericordia di Dio operare in noi vogliamo la sua giustizia che regni dentro di noi vogliamo avere più amore vogliamo camminare nell'amore vogliamo amare Gesù come capo della chiesa vogliamo onorare Gesù come capo della chiesa vogliamo servire Gesù come l'unigenito figlio di Dio vogliamo onorare il Re Re e Signore della nostra vita siamo d'accordo su questo il Signore dice c'è un percorso da fare perché io so quello che sono diventato ricordatevi che Gesù ha imparato l'ubbidienza attraverso le cose che ha sofferto quanti noi ci ricordiamo di quel passo Gesù ha dovuto imparare attraverso l'ubbidienza l'ubbidienza a che cosa forse a quelle cose siccome Gesù è venuto in carne si è svuotato della sua maestà della sua dell'essere delle cose del cielo si è svuotato della divinità per essere figlio d'uomo esattamente rivestendosi come me e te ha vissuto la sua vita su questa terra esattamente come me e come te senza mai peccare alleluia senza mai peccare ed ecco che Gesù dice io sono venuto nella perfezione sono stato il perfetto esempio quanti noi crediamo che Gesù sia stato il perfetto esempio se Gesù è venuto come il perfetto esempio e non è venuto per essere servito anche se meritasse di essere servito è venuto nella sua perfezione e vivere come uomo e farcela come figlio d'uomo ed essere la perfetta rappresentanza del padre e per dire anche a noi io sono venuto non per essere servito ma per servire a un annalazzo a noi sapete qual è la difficoltà del popolo di Dio la difficoltà è abbassarsi e umiliarsi per servire il Signore è venuto non per essere servito ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto ritorniamo a quel passo precedente in Marco e non Matteo alleluia 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 versetto 37 del versetto 10 essi gli dissero concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria ecco questi volevano questi due ricordatevi in mezzo a quei dodici che camminavano con Gesù che temevano che non sapevano del loro futuro ma forse avevano capito in qualche modo che si avvicinava il tempo che Gesù fosse glorificato e che tutti i romani fossero cacciati fuori da Israele che Israele prendesse l'autorità su tutte le nazioni e Gesù sedesse come re dei giudei sul trono si taro avanti per non restare a rete che fissero Signore Gesù aspetta un momento e tutti gli altri dieci che stanno facendo quei due vanno vanno vicino a Gesù e dicono Gesù dice concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria e Gesù disse loro voi non sapete quello che domandate potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato egli gli dissero si lo possiamo si allora poi l'hanno fatto ovviamente essi gli dissero sì lo possiamo e Gesù disse loro voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di cui io sono battezzato ma quanto a sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me darlo ma è per coloro ai quali è stato preparato udito ciò gli altri dieci cominciarono ad indignarsi contro Giacomo e Giovanni e questi dieci ma da sti due ma che ne fai sai perché se lamentavano di dieci perché non c'è pensato io per prima c'è pensato io avessi chiesto versetto 42 ma Gesù chiamateli a sé disse loro voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di esse leggiamolo insieme diciamolo ma tra voi c'è la persona accanto ma tra noi ma tra noi cosa non sarà non sarà così pastore davide ma tra noi non sarà così marcella ma tra noi non sarà così ma tra noi diciamo un'altra volta non sarà così alleluia non sarà così anzi chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà voglio sentire forza sarà alleluia ultimamente stiamo parlando di una chiesa senza mura una chiesa senza mura eppure intorno a cristiani ci sono mura un primo mura un secondo in caso il primo viene scavalcato poi il secondo e diventano sempre più più vicino più vicino più vicino si arriva alla persona e più alti mura diventano più grandi sono più difficili da battere sono alleluia quanti noi vogliamo essere come Cristo di pochi lo so alleluia e quanti noi veramente vogliamo essere come Cristo forse lo diciamo con la bocca ma poi quando consideriamo quello che ci costa per essere come Lui forse non avrei fatto questa domanda ma Gesù ti ha chiesto che cosa vuoi che io ti faccia e il Signore che cosa ha fatto ti ha dato una dimostrazione si è spogliato si è cinto solo i lombi si è inginocchiato ha preso i piedi dei suoi dodici discepoli che veramente dovevano servirlo invece dice io non sono venuto per essere servito ma per servire voi e dare la mia vita a voi come prezzo di discatto e Gesù si inginocchia prende i piedi i piedi di Pietro comincia a lavarli prende i piedi di Giacomo e comincia a lavarli li lava e poi va va intorno e ha lavato anche i piedi di Giuda aspetto che lavo i piedi di colui che mi tradisce e forse lo guarda negli occhi compastionevolmente lo guarda perché nell'amore di Cristo l'amore di Dio era lì presente anche per Giuda Gesù già sapeva che sarebbe stato Giuda a tradirlo dice poi versetto 43 ma tra voi ripetiamolo ma tra noi non sarà così ripetiamolo ma tra noi non sarà così profetizziamo profetizziamo questa parola ma tra noi non sarà così ma tra noi non sarà così ripetiamolo ma tra noi signore ma tra noi non sarà così anzi noi vogliamo diventare grandi alleluia quanti di noi vogliamo diventare grandi io voglio essere grande alleluia la religione vuole che tu si picciriggio ma il signore vuole che tutti diventiamo grandi grandi diciamo insieme grande tutti dobbiamo diventare grandi come si diventa ma chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo alleluia quanti di voi vogliamo diventare grandi quando sarai servo di tutti dei tuoi fratelli e delle tue sorelle del corpo di Cristo e ti abbasserai per lavare i piedi dei tuoi fratelli e delle tue sorelle allora sarai grande mi piace quest'ultimo e chiunque tra voi vorrà essere il il ricordi molti saranno primi dice molti come abbiamo letto il versetto dice ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi ma molti primi saranno ultimi ma non tutti i primi saranno ultimi sta aprendo una finestra e sta dicendo ma tra voi non è così ma tra voi diciamoli insieme mi piace questa parola ma tra noi non è così diciamoli insieme un'altra volta ma tra noi ma tra noi non è così non è così che noi abbiamo conosciuto Cristo non è così che noi abbiamo conosciuto questo unigenito figlio di Dio che ha lasciato il trono del cielo per venire qui sulla terra a dare il prezzo come prezzo la sua vita affinché Filippo potesse vivere sto chiudendo e chiunque fra voi vorrà essere il primo aspetta ci vuole preghiere e digiuno per leggere questa parola e chiunque e chiunque vorrà forza leggiamoli insieme e chiunque tra di voi vorrà vorrà essere il primo no ma che stai facendo alleluia quanti noi stiamo capendo il cuore di Cristo schiavo no poiché anche il figlio dell'uomo scusate chiunque tra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti quanti noi vogliamo essere i primi quanti noi vogliamo essere grandi e non solo i primi ma anche grandi vogliamo essere grandi e primi dice la persona a quando voglio essere grande e primo quindi sarò servo e schiavo di tutti alleluia poiché 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 alziamoci i piedi alleluia poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti quanti vogliamo essere come Gesù alleluia troviamo chi ha bisogno di essere servito e per essere grandi e primi dobbiamo essere dobbiamo essere i servi e schiavi di tutti wow quindi se tu hai chiesto al Signore di manifestare il suo carattere in te forse hai chiesto una cosa che ti sta facendo passare ti sta facendo uvidere pesce pesce non chiedere a Dio come mai ti trovi in questa situazione ti trovi in questa situazione perché hai chiesto Signore Gesù io ho visto tante lacrime da parte dei figli di Signore io voglio essere come te Gesù dice vero sicuro alleluia e chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti ci piacerebbe dire meglio servo di tutti ascoltate se usiamo il termine servo è come se un po' di scelta rimane a noi se volerlo fare o meno ma schiavo schiavo chi che ti pare che puoi domannare schiavo di tutti significa ti abbassi ti inginocchi prendi un bacino ci metti acqua comincia comincia a togliere i sandali degli altri e comincia a lavare i piedi degli altri comincia a lavare i piedi degli altri e dire Signore quale onore mi hai dato lavare i piedi dei miei fratelli e delle mie sorelle tante cose ci passiamo sopra noi tante cose ci passiamo sopra e perché scegliamo di ignorare certe cose o fare certe cose che sarebbe un servizio e un aiuto per gli altri per quelli che ci stanno attorno fratelli io sono grandemente onorato di avere il pastore Davide che non ha paura di una scopa ma io vorrei che tutti coloro che sono al servizio dell'opera di Dio ministeriale livello ministeriale abbiano anche loro una scopa in mano in quel modo non dimentichiamo mai o non dimenticheremo mai qual è il nostro compito è quello di avere questo meraviglioso privilegio e onore di servire il corpo di Cristo come se fosse Gesù stesso e io dico a tutti coloro che fanno appartengono al gruppo di pulizia questo non sono non sto facendo una campagna per il gruppo di pulizia anche se tutti dovremmo fare a turno per essere presenti a fare pulizia ma io dico a tutti quelli che vengono per lavare spazzare per terra lavano i piedi a Gesù e io vi dico che non va ignorato Dio che vede ogni cosa promuove Dio che vede ogni cosa provvede Dio che vede ogni cosa tende la sua mano e dice guarda un mio figliuolo una mia figliuola che desidera essere primo e grande chiniamo il cavo padre senza di te non possiamo fare nulla ma noi siamo contentissimi che tuo Signore ha fatto di noi degli strumenti noi scegliamo di essere grandi e primi come schiavi e come servi al tuo nome e al tuo corpo padre in questo meraviglioso silenzio fa che ognuno possa ponderare queste parole esaminare se stessi meditare su questa parola e a rendersi a te dicendo Signore quello che tu devi fare per me per servirti voglio rendermi vulnerabile e so per certo che l'opera che tu compirai in me anche se non lo capisco ora lo capirò dopo ti ringrazio Signore benedici il tuo popolo nel nome di Gesù e il popolo di Dio dice amén Dio vi straffi a qui lo capisco a e a e Grazie a tutti.